segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te non è vero che lo comanda la meloni è una recita la meloni e in più ci vogliono portare in una recita in cui noi dobbiamo dire meno male che sono due donne ma a me che me ne importa che sono due donne io voglio vedere due politici che si confrontano donne mi fa piacere che siano ma che abbiano la forza di cambiare questo paese e allora la seconda arriva a gubbio e dice